Caro benzina, prezzi da record in provincia di Lecco, anche nel nostro territorio il mancato taglio delle accise inizia a farsi sentire un aumento medio alla pompa di almeno 18 centesimi al litro rispetto allo scorso anno. Secondo un'indagine di Staffetta Quotidiana, Lecco sarebbe la provincia più cara in Italia con la benzina self in vendita a una media di 1,91 euro centesimi al litro, 9 in più della media nazionale. Un dato che calato nella vita quotidiana si traduce in decine e decine di euro in più ogni pieno e un conto che a fine mese può arrivare anche a qualche centinaia di euro in più. Per avere un quadro più dettagliato della situazione si può consultare il sito internet osservaprezzi carburanti gestito dal ministero delle imprese. Con pochi clic è possibile individuare i prezzi praticati da ogni distributore in un'area geografica selezionata. A Lecco il costo medio dei carburanti oscilla per la benzina da un minimo poco sotto a 1,80 euro, un massimo che supera anche i 2 euro al litro, più alti quelli del gasolio. Non tutti i prezzi comunque sono aggiornati e fa specie vedere il costo prima dello scorso 31 dicembre, quando un litro di benzina si pagava intorno a 1,60 euro. Sul tema dei rincari il senatore Lecchese dell'Alleanza Verdi e Sinistra a Tino Magni ha presentato un'interrogazione al ministro Giorgetti proponendo di ridurre l'IVA sulle accise e abbassare così almeno del 10% il costo del carburante. Proposta però respinta dall'esecutivo invece di dare la colpa degli aumenti ai distributori costretti allo sciopero, commenta Magni, Il governo trova il più presto una soluzione che non sia la sola trasparenza necessaria ma non sufficiente anche perché, conclude Magni, con solo la trasparenza e il monitoraggio dei prezzi non si fa al pieno all'automobile.